e andate dentro e birdie complimenti grazie primi nella sulla luna primi nel golf primo in tutto e non nella magistratura non ce la cambierei quella statunitense scusami un attimo frank pronto? dottore buongiorno sono l'ispettore trago ah salve stefano vieni sembra che i romani si sono fatti vivi di nuovo insomma dove stanno? se le cose stanno così devi darti da fare dottore devo agire al più presto mi dovrebbe fare una cortesia mi avverte lei il commissario guarda hai carta bianca col commissario ci parlo io lascio il telefono all'interno della macchina almeno puoi intracciare dove sto buona fortuna grazie